Linea dura del consorzio di Bacino Salerno 1 sul caso assenteismo al cantiere di Rocca Piemonte. Tutti i dipendenti coinvolti hanno subito provvedimento disciplinare in attesa che le indagini delle forze dell'ordine accertino responsabilità dopodiché il consorzio, così come prevede anche il contratto nazionale, potrebbe prendere ulteriori decisioni drastiche sul futuro occupazionale dei 22 lavoratori investiti dall'operazione dei carabinieri di Castel San Giorgio denominata Easy Beige. Alcune cose importanti sono venute fuori dalla conferenza stampa e fanno evidentemente riflettere su quanto avvenuto. Innanzitutto, come sottolineato dal commissario del consorzio Fabio Siani, alcuni soggetti finiti nel mirino della giustizia non sono nuovi ad attività irregolari sul posto di lavoro, così come fa pensare il fatto che nonostante l'accertato assenteismo di qualcuno, il comune di Castel San Giorgio sia comunque riuscito a diventare fiore all'occhiello del territorio per la raccolta differenziata, raggiungendo l'invidiabile dato dell'82,22%. Certo, più volte il sindaco di Castel San Giorgio ha evidenziato di aver impiegato propri dipendenti comunali per sopperire alle carenze del consorzio, ma tant'è. Completamente diverso invece il dato del vicino comune di Rocca Piemonte, dove si è a livelli appena sufficienti di raccolta differenziata, con un dato che supera di poco il 50%. Il commissario Siani e il dirigente Stefano Cicalesi hanno ribadito a voce alta la posizione del consorzio di Bacino rispetto a quanto avvenuto al cantiere di Rocca Piemonte. Su alcuni cantieri abbiamo anche un sistema di videosorveglianza, compatibilmente con le risorse economiche del consorzio, che ricordo essere un ente in liquidazione che vanta 34 milioni di euro di crediti nei confronti dei comuni consorziati. Quindi, nonostante le tante difficoltà, il consorzio ha sempre denunciato all'autorità le eventuali disfunzioni. Ogni qualvolta i dipendenti del consorzio non hanno garantito un servizio di qualità lo è stato perché non siamo riusciti a pagare lo stipendio. Perché non siamo riusciti a pagare lo stipendio? Perché i comuni non ci pagavano le corregolari del canone. Questa è un'altra storia. Noi non potevamo immaginare che i dipendenti si coprissero l'uno con l'altro. Nel momento in cui noi verifichiamo che c'è la presenza sui tabulati, che la città è pulita e non abbiamo contestazioni circa la non perfetta esecuzione del servizio, riteniamo che tutto vada bene. È naturale che però il consorzio in questa vicenda è parte offesa. Il consorzio proprio nel corso del tempo ha irrigidito le procedure per le verifiche delle presenze dei dipendenti e per i cantieri più grandi ha anche installato sistemi di videosorveglianza. Ovviamente noi abbiamo un problema di ordine finanziario. Siamo molto esposti con gli istituti di credito perché i comuni non provvedono regolarmente al pagamento. Abbiamo oltre 30 milioni di crediti nei confronti dei comuni consorziati. Non ci consente di poter portare avanti fino in fondo le azioni che abbiamo posto in campo per i cantieri di controllo. e nel caso specifico il cantiere in questione non era dotato di telecamere ma sarebbe stato una delle attività che avremmo fatto nel momento in cui avremmo avuto disponibilità come l'abbiamo fatto per gli altri cantieri. Ciò non toglie che però voglio sottolineare che in relazione a questo il consorzio ha avuto uno stretto contatto sia con le forze dell'ordine che con la magistratura in relazione a questo specifico caso e quindi abbiamo partecipato attivamente per la verifica puntuale di tutto ciò che è accaduto.